questa la devi proprio sapere e sono sicuro che farà infuriare i tifosi milanisti peppino prisco l'avvocato figura enorme della storia dell'inter ha creato alcuni degli sfottò e degli aforismi più belli e più divertenti che sono entrati veramente nel cuore dei tifosi interisti tra questi uno in particolare mi ha fatto veramente sorridere tantissimo peppino prisco infatti durante la sua vita in diverse interviste aveva spesso parlato del periodo d'oro del calcio italiano sapete qual era il periodo d'oro del calcio italiano secondo peppino prisco erano in particolare gli anni tra il 1907 e il 1951 ovvero i 44 anni in cui il milan non vinse nemmeno uno scudetto un'espressione che è piaciuta talmente tanto anche a davia zanetti che l'ha citata nel suo libro chiedilò milanista se anche per lui quello è stato il periodo d'oro del calcio italiano per altre storie sull'inter iscriviti subito al canale